Una delle nostre visite aziendali è stata effettuata presso la Campari, un'azienda conosciuta a livello globale, leader nell'industria del beverage di marca. Il gruppo prende il nome dall'omonima famiglia che nel 1860 lanciò sul mercato il celebre bitter rosso. Passata nelle mani della famiglia Garavoglia, è cresciuta costantemente fino a raggiungere un fatturato di 1 miliardo e 700 milioni, realizzato in 190 paesi, e offrire lavoro a circa 4.000 persone. Campari è stata capace di crescere sia in maniera organica, sia attraverso acquisizioni. Pensate che dal 1995 ha realizzato 27 acquisizioni, anche internazionali. Oggi ha in portafoglio 50 marchi. Oltre a Campari c'è anche Aperol, Sky, Grand Marnier, Averna e Crodino, per citarne alcuni. Abbiamo prima visitato la Galleria Campari, un museo aziendale interattivo e multimediale dedicato all'evoluzione dell'impresa, del brand, dei prodotti e della comunicazione. Poi siamo andati in Villa Campari, dove abbiamo avuto la possibilità di interloquire sia con il direttore della comunicazione, sia con il presidente del gruppo. Un'occasione unica per i nostri studenti.